bentornati al consueto appuntamento con tg tech scopriamo subito insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana ios entra nelle auto apple presenta carplay il nuovo htc one non è più un segreto sebi 2014 cosa aspettarci laica 100 anni e serie speciali annunciato batman arkham knight apple sbarca sulle auto ci dice tutto alessandro l'evoluzione della tecnologia ormai non fa sconti a nessuno nessun settore è esente dalla presenza di un computer o qualcosa di simile che intervenga a modificare quello che è stato fino ad oggi un esempio concreto viene dall'automobile da anni assistiamo a un progressivo aumento della tecnologia all'interno della nostra vettura basti pensare alle porte usb ai sistemi audio sempre più voluti al navigatore satellitare va dicendo le aziende attive nel settore della tecnologia si sono accorti ovviamente da tempo google per esempio da tempo ha presentato la open automotive alliance dei sistemi praticamente di infotainment che ci vengono incontro sia per guidare sia per un intrattenimento come può essere la musica la radio tutte queste cosette apple non poteva rimanere indietro ecco perché al salone di ginevra ha presentato carplay fra i primi ad utilizzare il sistema di infotainment targato apple ci saranno ferrari mercedes e volvo su alcuni modelli l'approccio di apple non è ancora del tutto svelato poiché guardando sul sito si intuisce che sarà necessario collegare un iphone della serie 5 per poter godere appieno delle funzionalità al centro di tutto infatti troviamo siri al quale si potranno dettare gli sms rispondere alle mail e tutte queste cose se tutto ciò funzionerà anche con uno smartphone non apple magari via bluetooth non è dato ancora da sapere la battaglia tecnologica quindi si sposta nell'automobile vedremo sempre di più sistemi di questo tipo popolare i nostri cruscotti non resta che attendere vedere come si evolverà la situazione di htc one ormai si sa tutto ma davide ci raccoglie tutti i dettagli passato il mobile world congress con il suo frenetico su seguirsi di annunci pensavamo di poterci prendere una vacanza e invece no ci ha pensato htc a rompere l'uovo nel paniere e il prossimo 25 marzo l'azienda taiwanese annuncerà il proprio nuovo top di gamma che sarà il terminale di punta per tutto questo 2014 parliamo ovviamente del successore dell'attuale htc one che tutti al momento definiscono di all new htc one nonostante ancora non sia stato ufficialmente annunciato nel corso di questa settimana il terminale è stato ampiamente recensito in un video pubblicato online nel quale un ragazzo entrato in possesso non si sa come della soluzione ne ha svelato ogni particolare confermata la nuova sense così come una doppia fotocamera nella parte posteriore è un design asimmetrico degli speaker frontali le linee riprendono quelle del primo one da cui dovrebbero essere ripresi anche i materiali non ci resta quindi che attendere il prossimo 25 marzo per poter mettere anche noi le mani sul nuovo top di gamma htc l'azienda taiwanese nel frattempo ha annunciato una nuova soluzione entry level si tratta di desire 310 marzo è il mese del sebit paolo ci dice cosa dobbiamo aspettarci dal 10 al 14 marzo si terrà nella bellissima cornice di handover ovviamente sono molto ironico in questo in l'edizione 2014 del cebit una fiera che nel corso degli ultimi anni ha subito un sostanziale declino e una perda di interesse rispetto a quello che era negli anni passati un tempo la principale fiera a livello mondiale per tutto quello che riguardava il mondo dell'informatica cebit rimane enorme per quanto riguarda gli spazi espositivi ma di certo ha perso quell'appeal che un tempo aveva in termini di novità e di prodotti per quale motivo due mesi fa c'è stato il consumer electronic show las vegas evento sempre più importante e giusto un paio di settimane fa si è tenuto a barcellona il mobile world congress evento focale per quanto riguarda tutte le novità legate al mondo mobile non ci teniamo quindi granché dal cebit in tutta onestà lo eseguiremo nel corso della prossima settimana ma non attendetevi quel gran flusso di notizie e informazioni che ha sempre storicamente caratterizzato questa fiera tutto questo con un po di malincuore e non ho bei tempi con i del cebit ma per fortuna non dobbiamo più andare nella bellissima handover correva l'anno 1914 e uno dei tecnici lights oscar barnac si metteva al lavoro su una macchina fotografica finalmente portatile nasceva così laica e il formato 24 per 36 a cento anni di distanza laica che è ancora un'icona del mondo fotografico ha voluto celebrare l'evento con delle serie speciali di due delle sue fotocamere da un lato la compatta deluxe 6 edition 100 e dall'altro la top di gamma reflex medio formato laica s edition 100 i corpi macchina portano impresso il logo commemorativo dell'evento e sicuramente diventeranno molto ambite tra i collezionisti operazione simile ma non portata avanti da laica questa volta da una società francese colette è quella di una laica c commemorativa dei 40 anni di hello kitty e 60 anni di playboy che porta impressa sul corpo la gattina in versione coniglietta di playboy per l'angolo dei videogiochi ci racconta le ultime novità rosario come sempre l'annuncio più interessante della settimana in campo videoludico è stato sicuramente quello di batman arkham knight previsto nella stagione natalizia nei formati pc ps4 xbox one batman arkham knight intende espandere l'esperienza di gioco tipica della serie mantenendo il fascino di impersonare batman e migliorando il gameplay con l'introduzione della bat mobile rocksteady ha modificato la struttura della città per adattarla alla bat mobile al traffico automobilistico con una mappa di gioco che sarà cinque volte più grande rispetto alla precedente il gioco sarà inoltre costruito come predecessori su una versione personalizzata della real engine adattata alle nuove caratteristiche hardware di ps4 xbox one pare inoltre che la tecnologia anvidia vista nei precedenti capitoli torni anche nel nuovo la fisica apex sarà infatti alla base del comportamento del mantello di batman così come del cappotto di gordon in modo che questi tessuti reagiscano dinamicamente alle intemperie meteorologiche la riproduzione visiva della bat mobile sarà inoltre di altissimo livello visto che l'auto sarà composta da centinaia di migliaia di poligoni e vi saranno anche texture e shader avanzati con arkham knight la serie torna nelle mani di rocksteady la software house che aveva inventato la serie batman arkham dopo che lo scorso capitolo arkham origins era stato affidato al team di montreal di warner bros come sempre rosario grasso precisiamo perché chi fa i titoli a volte capisce poco termina qui anche questa edizione di tg tech vi rimandiamo al prossimo appuntamento con il telegiornale del network di art rock raid correte a cliccare mi piace in calcio a questo video condividetelo con tutti i vostri amici se volete rimanere aggiornati con le nostre novità iscrivetevi alle nostre pagine facebook e naturalmente non dimenticate di andare a scaricare touch grazie a tutti